ciao a tutti oggi vi presento il corso ufficiale betting exchange naturalmente sul sito betting exchange punto it allora prima di tutto andiamo sul sito betting exchange ecco facciamo così lo vediamo per bene mi tolgo per un attimo questo è il sito mi raccomando per imparare bene betting exchange andate qui betting exchange punto it allora basta fare clic in alto dove c'è scritto corso qui oppure al momento scorrete e lo trovate qui cliccate il corso è gratuito perché il nostro obiettivo è diffondere una corretta cultura delle scommesse sportive il betting exchange è il miglior modo di giocare quindi per questo motivo è tutto gratis basta essere registrati a betting exchange punto it e la registrazione anche essa è gratuita e basta andare qui se siete già registrati naturalmente fate il login altrimenti cliccate e vi registrate una volta che vi siete registrati naturalmente leggete tutto quanto ok subito parte la prima lezione la prima lezione molto breve un'introduzione voi dovete fare clic qui sul play e si avvia il corso dopo questo breve video di un minuto passate qui c'è il pulsantone lezione 2 cliccate su lezione 2 e iniziate pian piano a entrare nel vivo del progetto il corso è stato pensato per tutti coloro che vogliono apprendere il betting exchange e soprattutto vogliono apprenderlo per bene perché in tutti questi anni mi sono sempre ritrovato persone che avevano trovato informazioni a destra e a manca magari qualcuno copiava i nostri articoli e li copiava pure male e alla fine ci è arrivata un sacco di gente impreparata spesso presa da quelli che io chiamo fanfaroni persone che sanno praticamente zero di betting exchange si spacciano per esperti giusto e che fanno danno parecchia cattiva informazione giocano tutto sulla variabile diventa ricco con le scommesse sportive con il trading sportivo e vi illudono e poi dopo arrivate invece da me e vi dimostrate incompetenti perché sono incompetenti coloro che vi hanno formato e magari si sono anche presi dei soldi per delle consulenze quindi mi raccomando imparate su betting exchange.it questo è il nostro corso ufficiale e trovate tutto dalla a alla z basta seguire le varie lezioni le abbiamo raggruppate in sette elementi sono sette lezioni ma ogni lezione è composta da più video abbiamo visto nella prima lezione c'era solo un piccolo video introduttivo adesso già qui nella seconda lezione potete notare che ci sono più video 12 e andando avanti vedrete che questi video aumentano sempre di più ora oltre a vedere i video assicuratevi anche di leggere i testi e di fare clic su eventuali approfondimenti come questo ad esempio adesso picco qui e vado all'approfondimento e ricordatevi sempre inoltre che per tutto quanto il progetto betting exchange.it qualsiasi contenuto è aperto disponibile per lasciare un commento basta che fate login lasciate un commento fate la domanda che volete assicuratevi che l'argomento sia contestuale se volete fare una domanda per esempio sul sul che cos'è il banca o come funziona il banca come utilizzare al meglio il banca andate nella sezione in cui si parla del banca se volete farmi una domanda sul daccing andate su daccing poi vedrete se il daccing risultati salti o daccing esito finale insomma a seconda dell'argomento che volete trattare andate lasciate un commento e ricevete sempre risposta questo è il mio obiettivo già ho iniziato da diversi anni sto fornendo l'informazione corretta e la formazione corretta sia nell'ambito generale delle scommesse sportive e nel caso specifico di betting exchange.it naturalmente sul betting exchange quindi questo corso è perfetto soprattutto per chi vediamolo vediamolo insieme allora torniamo alla lezione 1 eccolo qui il corso è stato pensato per utenti proprio che non sanno nulla proprio quante persone non sanno nulla o comunque ne sanno molto poco no del betting exchange ecco questo è quello che dovete fare questo corso qui poi utenti che magari sanno qualcosa ma vogliono capire meglio utenti che hanno letto molto su internet e quello che vi dicevo prima ma hanno idee confuse perché purtroppo è stato fatto con gente incompetente che si spacciava per esperta e appunto vi consiglio di seguire sempre solo betting exchange.it oppure utenti che magari già conoscono il betting exchange ma vogliono approfondire alcuni punti e infine anche utenti esperti che sono in cerca delle strategie migliori perché all'interno del corso abbiamo pensato anche poi di fare una sezione specifica per quanto riguarda le strategie migliori quelle che consigliamo poi è chiaro che su betting exchange.it trovate tantissime strategie ma quali sono poi quelle più efficaci quali sono quelle migliori quali sono le preferite ecco le trovate all'interno del corso quindi il corso è fatto in maniera specifica proprio per chi vuole imparare per bene il betting exchange ed è autoconsistente nel senso che tutto qua dentro ok qui vi insegniamo a utilizzare al meglio il betting exchange e come è scritto nel corso e vi ripeto sempre il percorso ideale che suggerisco per fare bene con le scommesse sportive e soprattutto farlo con costanza è partire comunque dal libro quote scommesse calcio il libro quote scommesse calcio pur avendo degli elementi di betting exchange nel senso che in alcuni punti si parla del betting exchange è un libro che vi prepara ad affrontare il mondo delle scommesse sportive al meglio quindi io vi consiglio comunque di partire dal libro quote scommesse calcio e poi di passare successivamente al betting exchange quindi se volete imparare il betting exchange questo corso è perfetto e il sito betting exchange.it è perfetto potete lasciare i commenti all'interno dei vari articoli e vi rispondiamo quindi avete tutto il supporto è tutto gratis ok inoltre io faccio anche le dirette betting exchange quindi anche su youtube posso fornirvi supporto faccio anche il tu chiedi io rispondo sull'altro sito quote scommesse calcio.com magari adesso lo apriamo un attimo così focalizzate ciò di cui sto parlando eccolo qui il tu chiedi io rispondo sul sito quote scommesse calcio qui stesso discorso potete fare domande a 360 gradi oppure tornando al discorso della diretta betting exchange eccola qua qui trovate informazioni per la diretta betting exchange cioè qual è il discorso che quote scommesse calcio il tu chiedi io rispondo è trasversale tant'è vero che anche adesso io ho deciso di fare il video col tu chiedi io rispondo anzi di qua e però appunto parliamo di pronostici scommesse sportive betting c'è tutto quanto il mondo delle scommesse sportive per quanto riguarda poi la diretta betty che si è già naturalmente più specifica per quanto riguarda il betting exchange quindi mi raccomando consiglio a tutti quanti di fare il corso il corso già presente in pochissimi giorni già abbiamo migliaia di persone che lo stanno visualizzando quindi sono contentissimo che finalmente perché io capisco magari con il sito magari non è facile trovare i contenuti in maniera sequenziale adesso invece con un corso siete proprio accompagnati verso la corretta direzione quindi adesso finalmente c'è questo corso migliaia di persone in pochi giorni già lo stanno vedendo e quindi è gratis approfittatene ok questo è tutto e ci vediamo alla prossima ciao